Parliamo adesso degli insetti delle drupacee della vite, poi vediamo subito la situazione della narsia. I nuovi adulti che hanno iniziato a volare attorno al 23-24 giugno hanno appena iniziato a deporre le uova. Cidia funebrana, la seconda generazione ha raggiunto e superato l'80% di uova deposte. In campo è ancora presente un 25-30% di uova che deve ancora schiudere, mentre le larve nate hanno valori medi attorno al 50%. Si prevede l'inizio del nuovo incrisalidamento fra una settimana circa e il volo degli adulti sta raggiungendo il picco di massima presenza. Per ultimo parliamo di tignoletta della vite, dove la seconda generazione ha raggiunto e superato il 50% di uova deposte. In campo però è ancora presente un 25-30% di uova che deve ancora schiudere. Le larve nate hanno valori medi compresi tra il 30-35% e il volo degli adulti ha superato l'85%. Bene, io con questo ho terminato relativamente i modelli previsionali, ripasso però la parola a Dario per gli ultimi consigli per la difesa. Un saluto a tutti e arrivederci ad una prossima puntata. Invece è il momento di dare un'occhiata all'anarsia perché le trappole ci dicono che stiamo catturando, che sono iniziate le ovode posizioni e che quindi sono attese anche per questa settimana le larve, la nascita delle larve. Per cui è chiaro che fondamentale è il monitoraggio delle nostre trappole. Dieci sono le catture in due settimane che giustificano l'intervento chimico. Anche qui i prodotti che si possono usare sono tanti, alcuni come il Calypso probabilmente li abbiamo già esauriti per il numero di interventi ammessi dal disciplinare, però ci rimangono ancora Affirm, Laser o Spintor, il Trebon, tutti i prodotti questi che hanno sette giorni di carenza, ma contro l'anarsia importanti sono anche eventuali interventi con prodotti a base di Bacillus thuringiensis che ricorderete di giorni di carenza ne ha tre. Io chiudo questo angolo dei medici delle piante con un fungo tipico della fase di preraccolta del pesco e delle netterine in modo particolare e anche in questo caso avrete capito che si tratta della moniglia ebbene con un decorso stagionale umido, piovoso, quindi predisponente a infezioni di questo fungo molto pericoloso, soprattutto per le varietà che sono in prossimità della raccolta nel rispetto dei tempi di carenza. Noi diciamo di intervenire con trattamenti di carattere preventivo, con prodotti a base di Tebuconazolo, quindi Folicur o simili, con sette giorni di carenza, oppure a base di Fenbuconazolo, Lindar che ha tre giorni di carenza, oppure con miscele di Boscalid e Strobilurina, quali il Signum o il Bellis Drupacee che di giorni di carenza ne hanno tre. Queste erano le ultime indicazioni per questo numero dei medici delle le piante, noi come di consueto vi diamo appuntamento per mercoledì prossimo.